Il miscelatore monocomando per lavabo Grohe Aerodisk Cosmopolitan vi colperà al primo sguardo con il suo design minimalista ed elegante al tempo stesso. Il braccio di erogazione, più alto rispetto ad un miscelatore standard, offre un maggiore comfort nel lavaggio delle mani. L'alta qualità della cartuccia in ceramica Grohe Silk Move garantisce una leggerezza e fluidità di comando superiori e durevoli nel tempo. Mentre la tecnologia esclusiva Grohe Starlight dona alla cromatura uno splendore e una lucentezza inalterati anche a distanza di anni. Il miscelatore è inoltre dotato di tecnologia Grohe EcoJoy, capace di ridurre il fabbisogno idrico ed energetico fino al 50%. Il rubinetto Grohe Aerodisk Cosmopolitan donerà al vostro bagno un aspetto nuovo, unito ad un tocco di freschezza. Grazie.